Ciao a tutti, oggi prepareremo i peperoni in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 25-30 minuti. Ingredienti sono peperoni gialli, peperoni rossi, aceto balsamico, zucchero, sale, aglio e olio. Viamo in via la ricetta. Mettiamo nel boccale l'aglio e l'olio. Tritiamo per 3 secondi e veloce da 5 minuti. Le dobbiamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi. Velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere i peperoni. Mettiamo il sale. Lasciamo il balsamico. E lo zucchero. Facciamo il tutto del 20 minuti. L'imperatura da Roma. Antiararia. Velocità a soffro. I nostri peperoni sono pronti. Andiamo a riporli in una terrina. Peperoni in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.